Give me that first one, and then just hit me. Ok, ok, and put it on. Ok. Non le c'è la troppo che sta nel primo pezzo. Non le c'è la troppo che sta nel primo pezzo. Grazie a tutti. Una volta, visitando questo monumento, questa abbazia, ebbi il piacere e l'onore di incontrare una specialista americana che abita a Pontigny, in Francia, ed è una delle più grandi esperte, e mi disse che la bellezza di questo posto stava nel fatto che c'erano tanti errori, che c'erano tanti elementi umani e che non era un'architettura fredda, meccanica, geometrica, fissa, ma portava l'esperienza dell'uomo. Di questo parleremo dell'esperienza dell'uomo in due tempi. Il primo tempo è quello che riguarda la poesia, perché l'altra sera il buon Dio ci ha mandato dell'acqua, evidentemente era scritto che alcune poesie dovessero essere recitate qui. E il secondo tempo, invece, sarà quello in cui la poesia incontra la musica e nasce la canzone. Ma prima di passare a questa parte letteraria, io ho il piacere di darvi il benvenuto, a nome dell'amministrazione provinciale di Frosinone, che ha voluto offrire alla nostra provincia e ai nostri ospiti, alla delegazione di New Orleans, che per il momento è impegnata altrove, ma arriverà quanto prima, ha voluto offrire due cose. Una tipicamente italiana, la Madame Butterfly, a Sora, e quest'altra esperienza qui, che come vedete è un'esperienza diciamo al 50-50%, perché anche in questo concerto ci saranno degli elementi italiani locali. Però ho piacere di poter ringraziare in questo contesto, e stasera, che è l'ultima sera, l'ultima occasione che ho, tutte le persone che ci hanno aiutato in questa straordinaria esperienza. Credetemi, extraordinari, veramente straordinari. Perfetto, mi scusate se ando a passare questa lunga dibattura, lunga introduzione, ma da tempo, così, mi accoglie qui e parla con me di queste cose, finalmente abbiamo portato la nave in porto. Grazie ai nostri padri. Ritengo che questo sia anche il sito giusto per Rì. La delegazione ospite è letteralmente strabiliata davanti alle nostre bellezze artistiche, da Trisulti a Casamare, Monte Cassino, Valsorano, Fiuggi, insomma, il conteggio sarebbe troppo rumore. Quindi ringrazio i padri Benedettini, perché anche lì l'esperienza è stata straordinaria. Voglio ringraziare anche l'amministrazione comunale di Cassino, che ha fatto un po' gli onori di casa, mostrandoci il teatro romano. E voglio poi ringraziare le altre amministrazioni che si sono date da fare. In primo luogo l'amministrazione di Isola dell'Iri, che si è data da fare in lungo e in largo per accogliere questa gente e ormai quasi quasi non vorrebbero andarsene più. L'amministrazione comunale di Sora, che attraverso l'assessore Tuzzi ci accoppiò nella serata di musica lirica. L'amministrazione comunale di Fiuggi, che ha provveduto ad accoglierci per l'avviso, è breve, alle termine, purtroppo il tempo era quello che era. Poi l'unione industriale, è importante che noi impariamo a coniugare queste attività culturali con la nostra realtà socio-economica. Questa volta abbiamo fatto un grosso passo, perché sono in corso dei rapporti bilaterali, incomincia a vedersi un rapporto tra settori, tra rappresentanti di diversi settori, quindi siamo molto soddisfatti dei contatti che già sono in corso e abbiamo buone speranze che questi contatti migliorino nel futuro. Devo ringraziare anche l'Astif di Fiuggi, che in maniera particolare ha colto la nostra delegazione americana, dando tutte le spiegazioni necessarie rispetto all'acqua Fiuggi. E dando un tocco specifico di cucina tipica, sociara, che è stata particolarmente apprezzata, abbiamo scoperto che è molto simile alla cucina di New Orleans e della Louisiana. Arrivo quindi alla fine dei ringraziamenti. È doveroso ringraziare gli albergatori ed i ristoratori di questa provincia. Credetemi, abbiamo mostrato il meglio, abbiamo ottenuto eccezionali risultati. Questa delegazione è stata accolta veramente come dei familiari e non hanno che dire. Devo ringraziare poi i trasportatori, gli annucci e proia, per esempio, che si sono dati da fare trasportandoci 24 ore su 24, con mezzi fra i più diversi, nei posti più impervi, nelle condizioni più strane, senza mai dire no. Abbiamo risolto i più grandi problemi di trasporto nella massima semplicità. Grazie. Chiudo questi ringraziamenti con un saluto particolare a quei ragazzi di Isola e non di Isola che hanno reso possibile il lavoro dietro le quinti. E' quel lavoro che non è di prima pagina. Io a volte ho l'onore della trincea, ma quei ragazzi spesso sono sempre lì nel buio. E' a questi ragazzi che io voglio dare veramente un saluto, un ringraziamento. Abbiamo portato la nave in porto grazie a voi che avete lavorato al buio. Io colgo l'occasione per salutare l'arma dei carabinieri che sta dando prestigio alle nostre serate. Abbiamo questa presenza tipicamente italiana, con sciabola, a cavallo, nel servizio di sicurezza. Ci sentiamo in buone mani e ci sentiamo in buone mani anche perché la Polizia di Stato è rappresentata dal questore. Quindi, come vede, noi amiamo le nostre forze dell'ordine. Io ringrazio, mi sembrava giusto aprire con qualcuno che facesse in maniera adeguata gli onori di casa, un poeta che io conoscevo molti anni fa, non come poeta, una persona che ha avuto a che fare col mondo dello spettacolo in tutti i suoi aspetti e che da diversi anni si è dedicato alla letteratura. Le sue opere sono pubblicate dai più grandi editori ed ha pubblicato dodici testi fino ad oggi, diffusi un po' in tutto il mondo. E' difficile annunciare in maniera altisonante una persona che si conosce da anni e che si ritiene amica. Io vi prego di accogliere con calore Nino Cellupica. Grazie mille.